Si avvicina il giorno della reintroduzione nell'isola del Gipetto, il cui ultimo esemplare venne avvistato una quarantina d'anni fa in territorio di Orgosolo. Sugurturio Ossariu, avvoltoio che si ciba di ossa, tornerà a volare grazie a un progetto che mette insieme l'amministrazione provinciale di Nuoro, la regione, l'enteforeste e parecchi altri soggetti. Il percorso teso a riportare nella nostra regione alcuni esemplari di avvoltoio degli Agnelli è iniziato alcuni anni fa. Adesso è in corso la campagna di sensibilizzazione con seminari, conferenze, incontri nelle scuole ma anche con agricoltori, allevatori e cacciatori. Infatti il ritorno del Gipetto, con i suoi quasi tre metri di apertura all'area, uno dei più grandi uccelli in natura, è destinato a fallire. Se non c'è la collaborazione della popolazione, ecco perché alcuni esperti stanno facendo tappa in ogni paese per illustrare l'iniziativa. Un progetto che senza la collaborazione della gente e di tutti questi soggetti non può avere successo. Assolutamente, è destinato a fallire se non c'è la collaborazione di tutti. Primo per il rispetto, ma poi anche perché noi non sappiamo dove e come si sposterà il Gipetto. Per cui solo grazie alla collaborazione di tutti, cioè dalla gente che segnala ogni avvistamento, potremmo avere maggiori garanzie sulla riuscita del progetto stesso. Bisognerà che la gente adotti questo animale? Sì, direi proprio di sì. Però l'interesse che stiamo notando, sia nei seminari ma soprattutto nelle conferenze, c'è una grande attesa. C'è proprio il rientro di questo mitico Orsardio che ormai è scomparso anche dalla nostra cultura, dalla nostra conoscenza diretta.